I promotori dei 12 referendum radicali che toccano altri tanti temi di grande rilevanza del vivere civile hanno lanciato oggi una campagna per far sapere che si può firmare anche in comune. Vediamo. Anche il sindaco Roberto Cosolini ha voluto dare l'esempio firmando per alcuni dei 12 quesiti referendari negli uffici comunali. I radicali e tutti gli altri promotori hanno lanciato oggi l'iniziativa di mobilitazione nazionale referendum in comune. Un'iniziativa di mobilitazione nazionale dei militanti radicali e degli altri partiti che sostengono l'iniziativa referendaria, soprattutto i radicali comunque, partita la loro iniziativa per due principali motivi. Attraverso questa mobilitazione congiunta rompere il silenzio che c'è stato praticamente sostanziale presso tv e giornali finora e dare informazione ai cittadini a riguardo della possibilità che c'è il luogo istituzionale dove firmare il referendum che è l'ufficio comunale. Oltre che ai banchetti allestiti dai militanti si può dunque firmare presso gli uffici comunali. Giunti agli sgoccioli del tempo utile per la raccolta delle 500.000 firme necessarie sul territorio nazionale che scadrà a metà settembre, il risultato è ancora in bilico nonostante l'impegno di realtà come Trieste che ne ha già raccolte 1.400.